Hanno giocato con i colori, trasformato le proprie emozioni in opere d'arte, modellato con le loro mani utilizzando materiali differenti, sperimentato diversi stili e tecniche artistiche, intrecciando varie forme di espressione agli alunni del circolo didattico statale Leonardo Sciascia di Caltanissetta durante un progetto PON. I lavori dei circa 27 bambini e bambine appartenenti a tre classi prime, con la guida delle docenti Gisella Caico ed Enrica Nicitra, hanno poi partecipato alla rassegna scolastica musicale nazionale organizzata a MIRTO e vinto a fine maggio il primo premio assoluto per la categoria Arti Varie. Un viaggio nell'arte che è stato anche raccontato alla giuria dagli alunni attraverso la storia degli artisti rappresentati associando le singole opere a delle canzoni. Le opere vincitrici sono state poi riproposte anche ai genitori a scuola con una vera e propria mostra, accompagnata da una piccola esibizione di musica pop associata alla pop art degli uomini di Ering. I bambini hanno conosciuto vari artisti importanti del panorama culturale italiano e hanno preso il contatto con l'arte visiva e hanno imparato a trasporla in movimento, danza e in rielaborazioni grafo-pittoriche personali. Al termine di questa esperienza abbiamo potuto partecipare con questi bambini e con i loro elaborati ad un concorso promosso dal comune di MIRTO, un concorso intitolato Assalvuccio per Cacciolo. Questo concorso ha consentito ai nostri bambini di esporre gli elaborati e di realizzare anche una performance espressivo corporea. Si è trattato veramente di un'esperienza originale ed è stata apprezzata questa originalità per cui i nostri bambini hanno vinto e hanno fatto vincere alla nostra scuola il primo premio assoluto con 100 su 100, un premio meritatissimo anche perché i bambini sono piccoli, sono bambini di 6 anni.